ed eccoci di nuovo insieme per la seconda parte del nostro appuntamento della sera grazie per essere ancora qui con me e ovviamente vi ricordo di nuovo anche il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la redazione basta scrivere ad angoli chiocciola espansionetv.it è una seconda parte alla quale io tengo moltissimo vado subito però a presentarvi le nostre ospiti con le quali parleremo di un progetto davvero molto molto importante e allora io saluto e ringrazio Carla Maria Stropeni ciao Carla e benvenuta tu sei la promotrice di questo progetto del quale tra poco ci parlerai nel dettaglio un progetto molto importante al quale io personalmente tengo molto ed è per questo che sono contenta che questa sera siate qua ma ne parliamo tra pochissimo insieme a te c'è Gloria Balzarotti ciao Gloria ben ritrovata grazie per essere qui tu sei responsabile coordinatrice dei lavori di cucito perché poi lo capiremo meglio questo cuore bellissimo che ha un senso particolare la borsa che vediamo vicino a te ovviamente sono confezionate a mano artigianalmente da voi e da chi insomma vi da una mano tra poco lo scopriremo e poi arriva Monica Monica la fraconi che ormai è protagonista in assoluto qui nel nostro salotto che saluto e ringrazio tu rappresenti l'associazione consorzio lariano che entra in maniera importantissima in questo progetto allora torno da Carla Carla raccontaci un po' che cosa succede questo progetto di cosa si occupa questo progetto nasce per volontà e in memoria di Morena ed Elisa due carissime amiche che purtroppo ci hanno lasciato lo scorso anno è stato possibile realizzarlo grazie alla collaborazione del consorzio dell'associazione consorzio lariano di cui Monica è rappresentante e del gruppo di cucito creativo in questo caso interviene Gloria che appunto la coordinatrice anche responsabile del gruppo cucito creativo il progetto consiste nel creare dei cuori che vengono impiegati come supporto e sostegno al braccio operato di tumore al seno praticamente servono per diminuire la tensione del vanno a scellare per fare in modo che venga diciamo anche un minore attrito con la ferita ed anche quindi di conseguenza è un sollievo è un sollievo assolutamente sì certamente questo progetto ovviamente non è un progetto nostro però l'idea arriva dall'america da una donna operata al seno che appunto ideato e creato questo questo cuscino noi avete avuto anche il sostegno della dottoressa la senologa Carla Magni assolutamente sì un input importantissimo assolutamente tramite il consorzio lariano perché per poter accedere alla struttura ospedaliera abbiamo dovuto appoggiarci a questa associazione che assolutamente ci ha sostenuto fin dall'inizio e grazie appunto alla dottoressa Carla Magni che è primaria della Breast Unit sia dell'ospedale Manzoni di Lecco che dell'ospedale Mendig di Merate e nei giorni scorsi abbiamo ottenuto abbiamo ricevuto l'autorizzazione che ci consente di fare questa donazione assolutamente gratuita alle donne operate al seno non si tratta solo dei cuscini ma anche delle borse a tracolla porta drenaggio anche queste le abbiamo qua quindi si tratta davvero di due accessori chiamiamoli così che sicuramente hanno un significato molto importante intanto nel ricordo delle due carissime amiche ma soprattutto nel sollievo di chi si può purtroppo trovare in questa situazione abbiamo detto sono confezionate completamente a mano Gloria tu insomma ti occupi un po' di tutto questo nell'organizzazione? sì 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 allora questi questi cuscini vengono fatti da noi che siamo un gruppo di signore molto volenterose e quando abbiamo proposto questo progetto lo hanno abbracciato con molta forza con molta voglia di fare e niente prendiamo le stoffe che vengono che ci vengono donate le valutiamo le laviamo perché comunque il tessuto di cotone ha un ritiro e quindi le laviamo anche per una questione di igiene certo e poi queste stoffe vengono tagliate preparate in una prima fase lavorativa e invece nella fase successiva di lavorazione vengono poi confezionate e vengono creati questi cuscini che hanno come potete vedere questa conca molto accentuata come diceva Carla per essere poi così come ci stai mostrando ora proprio aiuta il sostegno anche al microfono ma detto questo immagino sia importante per tutte voi anche ricevere parte del materiale da utilizzare e allora faccio proprio questo appello ne approfitto intanto c'è un numero di telefono che tra poco vedrete anche in sovraimpressione che è il 335 67 68 767 al quale appunto potete rivolgervi intanto immagino per farvi avere intanto per avere informazioni e poi anche magari per collaborare per essere signore volonterose come Gloria ha detto questa è una descrizione bellissima e magari anche per farvi avere tessuti o qualunque altro attrezzo non accettiamo soldi ma accettiamo solo materiale che possono essere stoffe, possono essere spolette possono essere imbottitura a fiocco, possono essere nastri ma accettiamo solo quello come materiale come contributo e come aiuto sì come contributo Monica c'è anche una pagina Facebook se non sbaglio che si chiama? M&E una farfalla nel cuore c'entra qualcosa questa farfalla che voi portate? sì, rappresenta le nostre due amiche che sono venute a mancare perché come dicevi Gloria? perché la farfalla simboleggia come se fosse un messaggio degli angeli e visto che loro due sono i nostri angeli quindi abbiamo adottato questo simbolo benissimo quindi un messaggio nel messaggio e quelle qua tra l'altro le stiamo vedendo Monica vengo da te, come associazione Consorzio Lariano vi siete fatte coinvolgere in questo bel progetto? perché l'associazione Consorzio Lariano prima di tutto nasce come servizi per le aziende però abbiamo anche una parte ludica cioè la sera ho le mie donne che vengono, che fanno i corsi di cucito però poi abbiamo Gloria che lei è tutta, ha delle ispirazioni, delle cose è creativa è creativa al massimo è creativa al massimo allora visto che io nel 2018 sono stata operata di tumore al seno le donne hanno raggruppato tutta questa cosa arrivando a questo cuscino io sono paziente della dottoressa Magni e così parlandone con lei a me piace molto questa idea poi oltre al cuore loro hanno aggiunto le borsine in ospedale perché abbiamo bisogno di queste borsette Gloria perché poi avete cercato di rispondere magari alle necessità che avete visto potevano essere effettivamente importanti sì 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 no quello sicuramente perché comunque è questo cioè loro in ospedale hanno bisogno loro accettano proprio molto volentieri queste cose qua perché comunque sono donate e poi danno sollievo anche alle donne operate ecco anzi se l'avessi avuto anch'io quando sono stata operata mi avrebbe fatto piacere senti Monica posso approfittare della tua come dire simpatia grazie ti sei confidata, ti sei aperta, tanto non ti sta ascoltando nessuno no nessuno dall'altra parte non lo dirò a nessuno nessuno lo saprà tra di noi appunto hai detto che anche tu hai affrontato questa esperienza quanto è importante la condivisione con le altre donne di questa situazione ma anche per esempio ricevere dei sostegni, degli aiuti, il pensiero della vicinanza come questo allora è molto importante perché comunque parlarne, esternarne con gli altri è veramente molto importante come molto importante è una prevenzione perché io ho fatto una prevenzione normalissima, non avevo niente quando poi mi hanno operato era una situazione un po' strana si è scatenato poi, cioè tra parentesi l'inferno io ho comunque dovuto affrontare chemioterapia cosa che comunque non era stata calcolata all'inizio della mia operazione perché doveva essere un'operazione semplicissima con ciò dico sempre fate tanta prevenzione donne anche al minimo la prevenzione normale ma anche al minimo accenno fate, andate dal vostro medico o dal vostro senologo e affrontate questa situazione perché quando si arriva tante volte è anche troppo tardi quindi caldeggiamo assolutamente la prevenzione e il continuo controllo la prevenzione è a mille per mille a quando qualcuno dice ma sento qualcosa e anzi anche l'autopalpazione è da fare spesso perché comunque che spesso a volte non sappiamo bene come fare ma specialmente poi quando, vabbè, quando si è giovani però quando si arriva vicino alla menopausa quando gli ormoni cambiano perché il mio ad esempio comunque hanno scoperto che poi era un tumore ormonale ci sono i cambiamenti nel nostro corpo e quando impazziscono queste cose forse è meglio avere un occhio in più su questa cosa qua imparare a ascoltare il nostro corpo quindi ascoltare le sollecitazioni alla prevenzione magari uno non ci pensa, dice faccio la mamma o faccio l'ego però anche una visita da un senologo è sempre una cosa importante grazie, sei stata carinissima e molto disponibile torniamo in questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione a questo progetto immaginate di portarlo avanti magari ampliarlo, arricchirlo, diffonderlo il più possibile che cosa hai in mente Carla? cosa ti piacerebbe se non altro immaginare nel futuro di questo progetto? sicuramente il progetto per noi deve continuare deve continuare e dovranno essere coinvolte sicuramente altre persone anche perché purtroppo sono in aumento i numeri delle donne operate ci auguriamo che questo possa cioè facciamo una promessa in questo senso facciamo una promessa anche perché come ho detto all'inizio era anche volontà delle nostre amiche lasciare un segno lasciare un qualcosa che potesse testimoniare e anche la vitalità e la forza che loro hanno sempre impiegato nella lotta contro questo male quindi in qualche maniera state interpretando anche il loro desiderio? assolutamente sì è per questo che avete queste farfalle che rappresentano la loro presenza anche qui in questo momento mentre ne stiamo parlando Gloria ricordiamo ancora come hai detto tu che tutto questo arriva appunto dalle mani di chi con generosità si mette a disposizione ma dal fatto che voi accettate come contributo praticamente il materiale di utilità per poterlo realizzare poi abbiamo avuto un buon riscontro anche da parte di alcune signore che vogliono venire a lavorare con noi e quindi ci siamo fatta una promessa a rotazione perché noi il nostro gruppo l'abbiamo già quindi a rotazione cercheremo di inserire nel tempo e secondo anche quello che ci chiederà l'ospedale naturalmente secondo le esigenze dell'ospedale noi lavoreremo e cercheremo di coinvolgere tutti quindi totale disponibilità per quelle che saranno le richieste stavi dicendo qualcosa? stavo dicendo che anche un'azienda di packaging di Mandello abbiamo richiesto queste borse cioè abbiamo richiesto del materiale loro ci hanno donato le borse per poterli mettere quindi grazie, grazie davvero a tutti quanti vi ricordo in battuta conclusiva il numero di telefono il 335 67 68 767 un numero di telefono che potete contattare ovviamente per tutte le informazioni ma anche per rendervi disponibili appunto al contributo immateriale indispensabile per portare avanti questo bellissimo progetto io saluto e ringrazio che belle che siete davvero Carla Ariastropeni, Gloria Balzarotti Monica Lafranconi ma soprattutto Morena Zucchi e Elisa Lazzari che sono qua con noi assolutamente grazie di cuore davvero portate avanti questo progetto così importante grazie mille grazie anche a voi per essere stati con me anche questa sera e come d'abitudine do la linea ai colleghi dell'informazione grazie a tutti grazie a tutti